La battipagliese in 1929 rende noto che in occasione della gara di domenica contro la Virtus Avellino in programma alle ore 14.30 allo Stadio Pastena di Battipaglia, e volevole per la quindicesima giornata del campionato di eccellenza, Girone B, ci sarà la promozione Porta un Amico. Con un tagliando di ingresso, infatti, al costo di 5 euro, potranno entrare due persone, di cui una in modo assolutamente gratuito. L'iniziativa nasce dalla volontà della società bianconera di riempire le gradinate dello Stadio Pastena e spingere la battipagliese nella sua ultima gara casalinga della stagione.